Signori bentornati con il nostro amatissimo San Andreas Allora vi devo dire due cose Ho fatto un cinetto Ho praticamente beccato altri graffiti E aspettate Sì, credo Questo è il gym, andrò a un paio di blocchi dal grove Guardatevi e guardatevi una fisica gangsta Io lo scopro, dopo l'altro Perché ho fatto quel salto strano Oh lord Perché c'ho dei fiori Ah madonna, sta cos'è Vedi, i fiori e questo Li ho trovati perché sono andato a fare un giretto E ho beccato C'era una foto né missioni né niente, sia chiaro Però praticamente ho beccato dei cosi Dei graffiti di gangrivali Quelli che li ho coperti tutti Praticamente ne ho fatto un giro solo per cercare quelli E ne ho beccato un paio Mi sa che ne ho coperto tipo Un totale di 20, circa Probabilmente 20 su 100, porca puttana Comunque fortunatamente la palestra è qui Vediamo se mi chiedono il green pass Altrimenti direttamente Guarda i mignottoni che vanno in gira Vediamo, vediamo Ma sono curioso questa cosa La resistenza la voglio aumentare di certo Perché è troppo lento Non mi piace Voglio renderlo più cazzuto Vediamo Membership Mi dovrò Ah così proprio Non sa neanche pagare Ma devo imparare per forza quello Cioè non posso fare box Qualcosa del genere Devo per forza fare le mosse Muscolatura Oppure Ah, vedi Oddio Oddio Nivelo 10 Ah Mi faccio partire le gambe cazzo Minchia vale il grasso Guarda come lo Guarda come lo Minchia Ma perde così tanto E per dimagrire Questa E basta No Guardate ho fatto già Mille metri Dai basta No Bisogna la stronzata Sicuramente possiamo usare un box No È questo Questo lo posso usare 20 kg 160 kg Non so se posso usare Aspetta Non ho letto Guarda come è sbilanciato Forse la sto facendo male Non ho letto bene Però vabbè Fa nulla Sono enorme Sono gigante Guarda come è stato sbilanciato Sicuramente non va Che lo metto come ripetizione Ma almeno ti tronchi Guarda sono già gigantesco Più 20 muscoli No vabbè Manca ste cose Ma seriamente 55 kg Ok Come funziona Presso le mani Premi quando la barra Inizia se lo vanno L'aria evidenziata Ho metrato Ho capito Stai diventando robusto Di già Ah Adesso ho capito Quando è sul verde Perché non ti devo premere Come un pazzo No Come il limite per oggi Ma io volevo spaccarmi Ancora aspetta Aspetta Forse per i Forse la panca Possiamo farla ancora No Che palle Ok Dato che la muscolatura È cresciuta Io direi Di farci una missioncina Al volo Più di una anzi Tan 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 E che stavo giocando Ah 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 Grazie a tutti Questa è una coperta da copyright, fantastico Questo o no invece? Incredibile, mi aspettavo vi giuro questo Di più Oh due armi io le ho Siamo già benissimo Ma seriamente Chi mi ha scopato? Che vuoi i bambini? Ehi, ehi, papi, ehi, cosa è? Sei il bambino di Beverly Johnson? Certo Brant, sei Sei tu morto? No, Emmett, il altro, Carl Scusate di Beverly That's why we're here, sir We want to get the people who did it Well You come to the right place Try anything you like, boy Man, look at this old shit Che vecchia Che vecchia Che vecchia Che vecchia La volta è perfetta Oh dear Ma cos'era quella Cos'era quella giravolta strana? Oh man Check out special agent Big Smoke Ah ok Posso abbassarmi Per aumentare la precisione Ah, vedi? Vieni per sparare il serbatoio dell'auto Ma come? Ah, così roba Un colpo secco Ehi, sei un killer, baby Ice cold Ma ricordi qualcosa Real strifte come from within, my brother Listen to the boy Yeah, I guess liberty didn't soften you none, huh? Hey, look, let's split Ah, see you real, Emmett I'm 100% behind you, boy But remember this You didn't get them from me And remember this Emmett is the place for guns I've always got high-quality merchandise And I've been proudly serving the community For over 30 years Crazy old fool Hey, look, you drive, man Crazy old fool Ah, finito Ok, mi è stato detto da Conti sicure No, 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 man La piazza sembra abbastanza La piazza sembra abbastanza La gente ha ottenuto i loro occhi E il loro cervello E il loro corpo E il loro corpo Che cosa stai parlando? Ah, c'è 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 parlando delle scelte Che tutti i uomini face, brother A volte si sembra reali Ma altre volte Non c'è una scelta C'è parlando delle scelte Almeno tu stai parlando di scelte E tu non ti ha cambiato una biazza Cosa, io? No, sempre C'è fatto che non si capisce che cazzo sta dicendo Non capisco Vai Ma quella macchina di chi è? È mia Ma prima non l'avevamo fatta saltare in aria I see your rap Let us smoke Oh Dio, sono le sbirri Sprezz Non c'è Trappi, che tu fosse un spazio Non C'è? Correggvi mi se sei Ma c'è chi Trappi, che tu fosse un spazio Trochę bala Uppi, con te sono Perché non ci si vedi i tu colori Non c'è Tu devi provare la corda Non c'è nessuno che ti rispiega Se non rappresenti la tua scelta No D'accordo, ma pezzi Non ho ancora nessunque c'è una macchina che ovviamente abbiamo fatto esplodere non era questa però è identica pensavo che si sono fatta esplodere l'auto comunque eravamo arrivati lì sembra stato veramente una comica comunque c'è mu vedo ma non mi garbo moltissimo l'idea di vestirmi di verde sempre fisco questo abbigliamento trasandato se ne frega al massimo metto una bandana verde o un calzino verde se va bene se abbastanza faccio così si se ne frega my humble shop oddio che mostro guarda questa qua meglio guarda meglio dire non voglio neanche vederlo comunque vediamo c'è qualcosa di lì la mi piacerebbe aspetta catene o belle le catene piastrine secondo lo piastrine questo rappresenta quello si è cagato addosso ma dai ma che sesso ha sta roba sono tentato eh però aspetta vuoi vedere cos'altro c'è sono ultra tentato sappiate e per concludere signori miei bene il nostro cj è pronto vediamo se ci parla qualcuno seriamente ma ha scritto tutto 99 centesimi ho pagato cose da 100 dollari ho pagato no dovete essere le cutscene si vede che lui è così si che jointi io già vi definibile aqu pompe adesso ci sud dice Per d di zing Show CJ che sta faiando! E sai qualcosa? Sì, è vero! Gia CJ, tu puoi rinforzare, homie! Sì, è vero! Oddio! Io pensavo... Non so, non pensavo seriamente che si vede essere le cazzine, no? Vi giuro! Vabbè dai, guido bene, guido bene! Ma non abbiamo preso armi però, cioè, siamo andati con lui e abbiamo fatto pratica praticamente Tiro il bersaglio, ma le armi... Vabbè, tanto io devo guidare, che mi frega Sì, balla è turf, il tuo cuore è pronto? Sì, sicuramente, sono pronto! Carl, concentrati sul rinforzo e ci prenderemo la scuola! Escolti il ragazzo, figlio! E provi a non rinforzare un cibo o qualcosa! Sì, se il carro stoppa, siamo morti! Ok, ho messo al minimo il contrasto perché... Cioè, porca puttana, quando facevano dentro la macchina... Buona! Quella macchina... no, quella casa è acquistabile, top! Aspetta un attimo! Aspetta un attimo! Aspetta! Aspetta! Ok, arrivo! No, scusa! Oddio! Vabbè, l'auto è in condizioni buone! Guarda qua! Sacchete! Aspetta! Non ti deludono, però... Sono povero! Stai fuori qui, CJ! Cioè, faccio prima così davvero! Li investo, eh! Ne ci do tre su quattro e gli altri penso no! All'ultimo! Eccoli, eccoli, guarda, eh! Aspetta! Aspetta! Oddio! No, cazzo, arriva la polizia! Corri! Sì! Minchia, le sirene ci fanno correre! Ok! Stato tutto perfettamente! Merda! Sparata la polizia! Non fa il culo! Ok, devo improvvisare! Devo improvvisare! Devo improvvisare! Devo improvvisare! Levatevi dai coglioni! Vale! Ma ho stato la polizia sia lì a fianco! Vaga robetta, eh! Se commetti un crimine... Ok! Ok! Nessun crimine! Niente di complicato! Finalmente il giusto riconoscimento! Comunque mi ritrovo molto meglio a guidare qui che con gli altri GTA! La guida è molto meglio! Ahaha! Guarda! Sì! Quanto mi hai dato per farmi una birra? 5.000 dollari! 5.000 dollari! Sono andato vicino! Comunque! Non so se notate! Adesso con il contratto messo al minimo si vede molto meglio secondo me! Cioè ovviamente... È molto più luminoso! Perché in macchina... Cioè... Capisco che siano neri! Ma... Porca merda! Era troppo buio dentro la macchina! Si vedeva niente! Niente che un'espressione! Sì! Questa... Dovrebbe essere molto bene! D***! Onde sono tutti i ragazzi? D*** che avevano? D***! 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 Ehi! Non c'è tempo per chit-chat! Ho visto una famiglia di famiglia di Sevilla, lavoriamo sulla strada, e i ragazzi non mi piacciono. Sono pinnato in Sevilla, e abbiamo bisogno di andare fuori da qui! Pronto! Oh, per sicuro, man! Scusa in qui! Scusa i miei immagini e riuscire! Vabbè, oddio, le armi le ho, però... Eh, bravo, l'è mancata! Com'è possibile che l'abbia mancata? Cioè, i colpi sono passati attraverso... Raggiungi i suite prima gli uomini... È una macchina?! Ok... Vabbè, non avremo problemi! Fortuna non devo andare a prendere prima armi! L'arma alla fine ce l'ho, però... E DAI! Mica la faccia che guidavo bene! Ciao, stronzi! Mi è piaciuta? Surprise, bitch! Surprise! È proprio uscita sta cazzo di hot! Oh mio Dio, la vita! Eh, il telefono come suona? La vita, raga, la vita! Ehm... Sì, ma dovrei anche andare a mangiare qualcosa... Dimmi che non mi sparano adesso... Porco Giuda! Se mi segui qualcuno te l'ho fottuto... Ecco... Se mi arriva un mezzo proiettile sono morto... Spero tutto soppia... Ho sbagliato auto da prendere in realtà... Questa c'è già una ruota a terra... Porca puttana... Ottimo, guarda quello... Merda, proprio quest'auto dove ho prendere... Ho una ruota a terra... Forse due... Jesus... Guarda, guarda che mi tampono facilmente... Oddio! Oddio! No, 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 no... Minchia! Ecco... Puoi seguire quella polizia, guarda... Aspetta, 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 aspetta... Aspetta, aspetta, aspetta... Forse ce l'abbiamo fatta... Oddio! Pazzo! Oddio, 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 oddio... Fatta! Vi vediamo dentro, figlio! Mano, questo set trippi... E' matta la famiglia... Hai fatto bene qui... Ehi! Sono un ragazzo di Johnson! Ehi, ho un'azienda non finita... Buon amore! Madonna, raga, ma lo sapete che ho visto... In un screening che mi ha fatto morire dalle risate... In sostanza c'era... C'era tipo un... C'era una comparazione fra questa Remastered e quella modata... Di San Andreas e quell'originale... Ecco, questo lo voglio fare perché l'ho visto prima... E minchia, ho visto una... Ho visto porca attore dei modelli che sono terribili... Mi stavo pisciando dalle risate... Se riesco a trovare... Lo screen ve lo faccio vedere... Madonna, è... E' fantastico il figlio... Quando l'ho visto stavo ridando troppissimo... Cioè, non è... Non è, diciamo, la migliore delle Remastered... Però... Porca puttana... Sono dei modelli che sono veramente terribili... Rispetto anche all'originale... Cioè, sono terribili... Però allo stesso tempo chi cazzo la frega? Cioè, a me non me ne frega nulla onestamente... Perché non l'ho mai giocato... Se non andrei a seguire questa... Però è un'occasione unica... Che piuttosto che... Giocare magari all'originale... Con i modelli molto vecchi... Ecco, preferisco... Giocarmi in sta versione... Anche se magari c'è un modello... Un modello più sminchiato dell'altro... Però chi se ne frega... Comunque... Adesso vado a mangiarmi qualcosa... Perché sennò muoio... Letteralmente... Oddio... Ho trovato una granata qua... Mentre dovevo... Fare un giro... Allora... Tanto questi sono... Dei miei... Quindi... Ecco, ne ho fatto... 22 su 100... Spero sia abbastanza... Ne ho mangiato tre... Nooo... Ma... Palle... Mangio ancora... Non mi sta seguendo qualcuno... Porca merda... Ma che succede? Ma... Che cazzo vuole che sto qua? Ma vuoi che ti faccia saltare... Mica ho un ventigrana... Che vuole sto qua? E... Che vuoi dalla mia madre? Perché è impazzito? Raga... Ma che cazzo? Oh! Guardalo! Ma che... Che ha che non va la mia... Perché non ti piace la mia macchina? E... Ehi! Mica raga... Guardalo! 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 Cosa sta combinando? Cioè ma è necessario accadirsi sulla mia auto? Ma io non so come interpretava sta roba... Guarda! Non ce l'ha con me! Cioè guardate! Fa tutti... Guarda eh! Cioè non ce l'ha con me! Cioè non ce l'ha con me! C'era con l'auto! Ci sta sul cazzo! No, voglio aspettare e vedere cosa succede... Voi non ci credo guarda! Oh merda! Eh stavolta è sbagliato perso... Perso di merda! Eh cosa adesso scappi bastardo! Ma sparateli! Ma sparateli! Pirata della strada! Ma che... Ecco così impari! Mi hanno... Mi hanno portato quelli della gang! Ha! 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 Ah! Ha! Harder. E' una cosa, quindi potrei date uno dei tuoi amici? Non credo Non ho detto una parola Carl, segui il tuo sessore prima di vedere un altro simile morto E poi sai esattamente quello che è il mio problema E' la metterla a un club di cholo Ah, è la sorella? Pensava fosse la fidanzata di lui, immaginatevi quanto ho ben capito i personaggi Ok, la seguo Andiamo, colpo in canna Olè Oh mio Dio No No Beh, gioco ma che co... Oh Dio Questo gioco è lo stereotipo perfetto Oddio perché fai retro mafio? Entra con... Ok Ma esistono ancora le macchine così che fanno gli saltetti strani Sì ma che cazzo me ne frega a me No Non ho soldi da fare questa roba Al massimo posso mettere una vericiatura differente ma anche quella costa Scansi di qui vicino la faccio verde guarda così almeno Oh merda Oh mi scusi Ma che è sta roba? Oh mio Dio 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 Oh bellissimo Oh mio Dio Non so Non so come le termite avete un'auto così che fa... Guarda come cazzo... Oddio Cioè ma del 2021 esiste ancora gente che si modifica l'auto così voglio dire con le sospensioni alzate così In giro con la macchina che saltella Andava di moda negli anni 90 sta roba Anni 90-80 più o meno ma poi non l'ho più vista né nei videorap Né da nessun'altra parte Eccoci Tutti con l'auto uguale Ma che è sta roba? Boh dai ci metto 100 dollari Facciamo 100 dollari E quale sarebbe tipo la scommessa? Cosa dovrei fare? Oddio Ho pagato lei? Per caso? Usi come... Oh mio Dio Ma seriamente? Che ne ho visti ragazzi puttanate Questa non me l'aspettavo Chi è il king? Soprattutto dov'è la sorella? Non fai male Non fai male Vado ti botto 9000 punti rispetto ai tuoi Scrausi 600 Vado Allora Che ne ho senti Non fai male Che ne ho senti Che ne ho senti Mi, cabron. Quindi calma il f***o. Io la trattavo bene. Guarda, bambi, non cominciai nessuna f***a. Non faccia il risultato. Ok? Chi è questo p******o? Cosa? Il f***o? Il f***o è il mio fratello. E' facile, Holmes, non è da nulla. E' bello. Beh, io dico che non è bello, Holmes. Io dico che non è bello, Holmes. Io dico che credo che sia un gangista, ragazzi. E non mi piace. E tu sai cosa puoi fare per me, ragazzi? Puoi farlo, p******o. E poi, magari siamo bello. No, tu farlo. Sto parlando con la mia sorella. F***o. Cesar. Fortunato che, guarda, C'erano già la mano sulla granata. Che le faccio saltare in aria tutti. Io amo la tua sorella. Io l'honoro. E' la mia sorella per la vita. E' la mia sorella. E' la mia sorella per la vita. E' la mia sorella per lì. Hai un problema con me? Ok. Non bisogna essere amici. Ma Kendo. E' felice con me, Karnat. Guarda il mio orologietto lì. Ok. Ok. Penso che siamo bello. Ma ora... Cesar Vilpando. Corjass. C'è Jack. C***o. C***o. Tu hai una buona rida là, eh? C***o. Nooo, guarda. Nooo, guarda. Maybe. Le dubito fortemente. Oh mio Dio! Si è alzato già dal lato. Oh. Chi è? Si. Ho. ? Oh ma che cazzo Oh porco giuda Oh ma porca puntata Pezzi di merda Bastardi hanno sparato prima loro Vabbè tra Io con la mia macchina che salta me ne vado via Oh perda mi hanno beccato le ruote Mi hanno rotto di questa morto Guarda Oh no Che schifa Oh no Guarda l'altro Oh merda Ok problema risalto no Adesso è dovuto togliere la pistola Oh merda Allora signori questo magico let's play di San Andreas Giunge al termine Io adesso lo salvo È stata una magica avventura Oddio mio Ci becchiamo con il prossimo Mi raccomando supportate la serie signori Sono Me la ho complesso per i cazzi miei E ci vediamo con la prossima parte Ciao a tutti